Ciao, sono Fiorella Coco. Mi sono laureata in scienze forestali e ambientali all'Università di Padova. Ho deciso di frequentare il master di secondo livello in GIS Science e Droni per integrare le potenzialità di questi software alla mia libera professione che spero avverrà in un futuro prossimo. Sto facendo anche uno stage in Regione Veneto, nell'area di pianificazione territoriale. Mi sto occupando dei fotogrammi del Vologai che sono stati fatti nel 1954. Sono dei fotogrammi in bianco e nero e li userò per ottenere l'uso del suolo del 1954. Più specificatamente cercherò una metodologia per ricavare l'uso del suolo in modo più veloce rispetto alla digitalizzazione manuale dei poligoni, dell'urbanizzato, dei territori agricoli, dei corpibrici e delle aree boschive. Spero di poter riuscire in questa impresa e grazie a tutti. Ciao!